raga forse hanno cambiato perchè c'è scritto guadagni appunti utilizzando il codice sul tuo profilo quindi il codice che io vi lascio giù nell'info box penso sia sempre quello due amici iscritti una box in omaggio anche perchè c'è scritto invita i tuoi amici a iscriversi a degustabox perchè una box è stata presa sconto speciale sulla prima box anche per i tuoi amici 7,99 no raga quindi è buonissimo invece di io pagarla 9,99€ voi pagherete la prima box utilizzando il link che trova giù nell'info box 7,99€ ovviamente al momento in cui anche voi acquistate succederà anche questa cosa esatto benvenuti in un nuovo video e finalmente un video insieme sembrano stato un'eternità perchè l'ultima cold cioè l'ultimo video è stato cold box e l'ho registrata da sola che lei non è più da esserci qui con noi per oggi siamo che per spacchettare la box mensile del mese di marzo degustabox sapete che io non ci collaboro prego sempre bollino vedo brochure leva 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 vuol dire di disame di elbe eppure io lo sai no non la rompere no 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 che cos'è oh super novità in casa lo hacker molti cereali sempre il gusto quello là con la noccia dell'altra volta ricco di fibre incarto riciclabile incarto ah incarto incarto eccoli qua pure io sento proprio un odore mi sento proprio un odore mi sento proprio un sacco vai lascio a pescare faccio troppo lontana avvicino un po' faccio piccolina no ma insomma sono proprio così ah quadri con farine come una volta sottili sì ma sì ma pavero e lino secondo me sarà tutto un po' in tema di questo marzo biologico in tema quelle erbe in tema quelle tisane ecco qua vedi in tema con la tua labbra vedi vai fatti cuore veg bevanda con solo riso italiano senza zuccheri aggiunti sì sì sarebbe tipo diciamo anche un latte non ho mai provato una bevanda a base di riso solitamente sempre avena cocco mi spaventa perché poi da quanto è 500 ml senza zuccheri aggiunti un litro bene bene sempre questo sentivi no 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 vado io a pesca pesca che si sente con più c'è questo caldo maionese fresca magro con yogurt magro vabbè loro ogni quattro in questa box inserisce o la maionese o la salsina noi andiamo in fissa quindi no infatti secondo me ci piacerà anche questa sarà buona senza lo yogurt meno 55% di grassi saturi vedremo anche questo è il tubo buone l'abbiamo provata l'altra volta però era quella l'altro lato protein della BKIND BKIND caramello caramello e cioè come si dice aranchidi o nocciole no aranchidi dipende mi sembra un po' frutta secca frutta secca è proprio un misto perché vede aranchisi mandorle queste sono buonissime un po' un mix si l'altro è cioccolato ma l'ho già vengono un po' che avrà dolce rispetto all'altra volta era tutto salato l'altra volta ma io mi sento poche cose e quelle che caggia è finita queste sono velati sana infatti infatti buonomelli tisane infusione caldo-freddo contribuisce all'equilibrio della flora intestinale con radice di cicoria semi di psillium e inulina prebiotica adoro questo è da provare si comunque si già sta finendo quasi tutto questo è buono questa è andiamo avanti vai che cazzo nero golea multivitamin vitamina C B3 B5 B6 caramelle ripiene senza zucchero ci sta aspetta prendo anche queste perché ci sono due non sono sbagliate comunque ci sono due pacchi ma che è strano questa cosa ma bene vai c'è un po' di consistenza c'è qualcosa di sostanzioso sento una cosa di pratica vita no cosa è un passato una marmellata una marmellata una marmellata da ruba un gusto infinito 80% fragola 80% di frutta ma forse è un marchio nuovo bella wow proprio chic guarda qua c'era anche arancia arancia no c'erano altri gusti fragola arbicocca lampone mirtillo nero e frutti di bosco 250 grammi ma raga il pecco è meraviglioso wow chic chic prego 61% di frutta povere ma raga ho visto una cosa vabbè alla fine è anche da vedere il periodo è proprio difficile è anche da vedere un po' il periodo perché comunque ci troviamo in un periodo molto particolare in cui tante aziende non stanno producendo più come prima quindi ci sta anche però è molto incentrato sul benessere sul web sul biologico ma più colazione più cose dolci achillea non può mai mancare ovviamente sempre tutto imballato frullato mix frutta gialla mango pesca e arancia eccolo qua forse posso fare anche un video un po' alternativo vediamo un po' forse in qualche vlog perché comunque un vlog è più supportato a provare qualcosina di particolare insieme qualche fa farò un video diverso perché è una challenge è veramente impossibile anche perché mostriamo l'ultima cosa che mi si è spoderata anche io però sai io avrei preferito la nuova versione a questo punto Raffaello adoro aspetta ma mi chiede la nuova versione non penso proprio Raffaello confetteria questo pure costa sì lo so che costa ma però c'era tipo quella novità l'ampone infatti non è una novità vabbè però siamo contenti lo sai ma che facciamo ce lo mangiamo uno sì per augurio per augurio tanto comunque non l'avrei mai provato venuti al battesimo è figlio maschio è maschio auguri auguri per augurio si mangia sempre sì infatti per forza gli mangiiamo i gesù perché vabbè sono due sono due sono ticce bello guarda un po' quale hai preso tu sembra proprio appena fatto è pure fresco prodotto del mese latte latte di riso 2,05 euro poi c'è aspetta è vero che abbiamo ricevuto di meno prodotti però abbiamo ricevuto prodotti che economicamente costano abbastanza anche perché Raffaello costano 4,29 euro la marmellana 3,19 euro ma questo non c'è uscito la cosa di limoni ci banca perciò hanno sbagliato a mettere perciò hanno messo degolia forse non c'era va benissimo allora marmellata 3,19 euro i quadratini 2,14 euro succo achillea 2,99 euro maionese calve 1,29 euro i loaker 2,29 euro Golia 1,50 euro ho scritto due prodotti in ogni box quindi hanno una roba regalata mille poi c'era un coso di un chilo di una bottiglina di un chilo di succo di limone che costava 1,80 euro Bonomelli 2,89 euro Barretta Bekind 2,49 euro e Raffaello 4,29 euro e quindi nulla che dire questa box io forse non è stata una delle più belle anche perché anche perché ci manca anche questo non lo so non mi ha entusiasmato più di tanto speriamo la prossima speriamo la prossima che sia molto 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 più bella quindi nulla ne speriamo che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao